Per quale motivo iscriversi al Polo 3 di Fano? Al Polo 3 di Fano, Grafica e Comunicazione, il nostro corso, verte nella professionalità di grafica, fotografia e video e gli studenti nel percorso scolastico, sia nel biennio che nel triennio finale, acquisiscono delle competenze professionali, come dicevo, nel campo della comunicazione a 360 gradi. Attraverso le attrezzature professionali, naturalmente nei laboratori MEC e nei laboratori di fotografia e video, dove abbiamo attrezzature professionali adatte sia per la televisione, per il cinema, per cortometraggi, per documentari di ogni genere, i ragazzi acquisiscono una professionalità che si sviluppa in competenza, in conoscenza e soprattutto nel saper fare. Il saper fare significa entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire nel campo degli studi attraverso le accademie e qui nella provincia di Pesaro Urbino abbiamo l'Accademia ad Urbino, abbiamo l'ISIA, un istituto superiore delle istruzioni artistiche, dove si studia grafica a livello altamente professionale, fotografia e video. E abbiamo anche il Dams di Bologna, dove è una branca dell'Alma Mater, ossia l'Università di Lettere, dove ci si può specializzare nell'editoria, nella musica, nello spettacolo in genere, nel giornalismo e in altre arti affini. Le nostre parole chiave sono la tecnologia, come ho detto, ma soprattutto la creatività. Ogni ragazzo attraverso l'estetica, attraverso la propria fantasia, creerà un mondo nuovo nella comunicazione. Un mondo nuovo significa la ricerca di quel qualcosa che magari ancora non è stato trattato nella comunicazione, come uno scienziato magari di medicina o di biologia fa le sue scoperte, anche nella comunicazione abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di persone che in Italia o anche e soprattutto all'estero, in Europa, negli Stati Uniti o in ogni altra parte del mondo, l'italiano è ricercatissimo per la sua creatività e quindi formiamo delle persone che attraverso la loro competenza vanno in altri Stati europei o nelle altre parti del mondo a comunicare attraverso un qualche cosa che è l'italianità. È qualche cosa che è nostro e sicuramente è competente con tutte le altre nazioni del mondo. Le nostre materie si sviluppano dal terzo anno con una dose massiccia di 16 ore settimanali di pratica nei laboratori e questo la dice tutta nel fatto della preparazione tecnica e specializzata. Come dicevo prima, le attrezzature sono un fiorfiore del presente, di quello che poi i ragazzi utilizzeranno nell'attività professionale. Nella nostra scuola il percorso di studi si svolge dal lunedì fino al venerdì, il sabato è libero e hanno sei ore, i ragazzi iniziano le lezioni alle 8 e si concludono alle 13.55 e naturalmente offriamo anche dei corsi pomeridiani di potenziamento. Altra cosa importante che non ho ancora detto è il PCTO, ossia i ragazzi nel mondo del lavoro fanno un'esperienza nel terzo, nel quarto e nel quinto anno per due o tre settimane ogni anno per entrare proprio nel mondo del lavoro, per toccare con mano quelle che saranno le loro professioni future. Un'altra cosa importante, abbiamo dei corsi Erasmus e i ragazzi vanno a spasso per l'Europa per fare nuove esperienze nelle attività professionali di cui studiano, nel nostro campo naturalmente, nella grafica, nella fotografia e nel video. La nostra dirigente si è spesa molto per quanto riguarda le attrezzature, per quanto riguarda essere al passo con i tempi, con la professionalità. Una cosa importantissima a cui il nostro istituto tiene è preparare i ragazzi, sia per il mondo del lavoro e sia per un'eventuale prosecuzione degli studi, come dicevo prima, presso le accademie o presso le università, ma soprattutto una preparazione che comunque ci dia la possibilità di dare un futuro ai nostri ragazzi.